buongiorno a tutti io sono faber e vi presento il salotto del godo oggi parleremo di buongiorno e benvenuti in questa nuova serie condotta da me da faber io sono faber e sono appena arrivato da poco nel godo e appena sono arrivato già mi fanno lavorare maledetti no scherzo mi piace lavorare il lavoro nobilità l'uomo ha capito questa è la verità il lavoro no quelle cose non si dicono ha capito le cose mi fanno schifo vabbè comunque il cameraman è un po agitato perché non mi conosce e quindi non sa nemmeno lui che cosa fare inquadra cose a caso vabbè come vedete questo è lo schermato la conoscete già io l'ho appena vista è molto carina e ci può stare insomma comunque sono qua per annunciarvi dell'argomento di cui parleremo qui un argomento collegato diciamo allo show lo show in questo caso parlerà di natura esatto esatto e noi parliamo di qualcosa collegato alla natura i disboscamenti minchi mi fanno arrabbiare sono già solo a dire alcuni dicono che il mio sguardo non si capisce quando sono arrabbiato ma io sono sempre arrabbiata capito no non è vero non sono arrabbiato però quando sento sti cosi disboscamenti mi viene la polla d'oca vorrei prendere appunghi tutti quanti no vabbè no ti avevo detto di non parlare prima che ti avessi presentato io me l'hai detto vabbè comunque questo episodio va un po così è il primo perdonatemelo qui con me come ormai avrete capito c'è un ospite un ospite che è guglielmo guglielmo vai presenti tanto ti hanno già sentito maledetto e mi scusi signor faber salve a tutti io sono guglielmo e qui con me c'è già non sono io che devo parlare è lui che sono un ospite del programma di falamber il salotto del godo e e sono qui nel vedete col col carpet col carpet degli ospiti il leopard cup carpet non so parlare l'inglese vabbè avete capito e insomma come il capo si chiama leopard carpet hai capito ma siccome a me l'inglese mi fa schifo chiamalo tappeto leopardato capito il tappeto leopardato già mi piace di più ecco esatto e quindi niente cominciamo che facciamo signor faber cominciamo con l'episodio esatto cominciamo a vedere mi sono spostato di lato per poter osservare pure io il materiale che ci mostreranno le slide vai cameraman mostraci qui ecco come vedete questa è un'immagine ovviamente fatta tecnologicamente come si dice come si dice guglielmo tecnologico e credo forse intendi editata insomma una cosa artistica non è un'immagine reale insomma esatto è una fan arte esatto ma prima avevi detto che ho detto inglese e non so come me ogni tanto mi viene però da parlare inglese e ogni tanto ho fatto tanti viaggi e ogni tanto mi ricorda capito c'ho la memoria un po sono anziano capito comunque come ha detto guglielmo questo è un'immagine che vuole rappresentare che sono dei polmoni gli alberi sono dei polmoni del mondo ha capito e questi sono alberi di sboscare vedete ci stanno i scavatori i camion e tutti gli attrezzi per scavare per abbattere quegli alberi e guardate che schifo non mi fa schifo quando vedete una cosa del genere tutto bello e poi vedete questo comunque passiamo poi alla prossima slide vediamo un po questo come vedete è un bosco che non esiste più ci sono alcuni alberi da sopra ma tutti questi qua sotto sono stati tagliati di vita una cosa tristissima bruttissima da vedere ha capito non so proprio che cosa dire ma stiamo alla prossima vai qui abbiamo due immagini due posti differenti di qua stanno approcciando penso che siano gli incendi in siberia secondo me mamma mia fabber è proprio informato su queste cose mamma mia picciotto non parlare non interrompermi picciotto e scusate 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 a quest'altra parte vedete invece dei disboscamenti onestamente non so dove si trova questo posto però stanno disboscando tutto maledetti maledetti qui come vedete c'è una montagna questi erano alberi presenti su una montagna ma guardate che è successo gli hanno fatti questo mi pare che in africa questo in africa sì 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 mi ricordo e li hanno fatti illegalmente disboscati tutti illegalmente capito e dunque ora passeremo ai commenti in questo programma farò in modo che i primi commentati saranno sempre gli ospiti in questo caso guglielmo e poi dirò io la mia opinione è già tanto che mi sono trattenuto a non derla adesso maledetti io voglio dirla subito la mia opinione ma signor fabber è stato lei a fare la struttura di questo programma è vero non posso manco arrabbiarmi è bella verità mannaggia devo farlo meglio vabbè comunque vai guglielmo dice cosa ne pensi prima di tutto prima immagine allora la mia immagine essenzialmente come ha già detto il signor fabber è proprio quello che vedete no una una triste rappresentazione di quello che però è la realtà purtroppo e quando si sboscano gli alberi e non li si ripiantano succede che il mondo ne risente tutto lo smog l'inquinamento l'inquinamento non mi viene il termine mannaggia vuol dire forse l'inquinamento dell'aria della terra e del mare esatto 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 in particolare qui a noi ci interessa l'inquinamento dell'aria e del della terra e per quanto riguarda gli altri ovvio è anche importante l'inquinamento del mare però in questo caso capito e quindi è una cosa molto brutta capito esatto e dunque ora passiamo alla prossima cosa ne pensi di questo il sboscamento del di tutti questi boss guarda tutti gli alberi non ci sono più quelli cosa ne pensi guglielmo allora signor fabber secondo me qui stesso discorso di prima perché di sboscare e poi non piantare gli alberi ma non vi rendete conto che che state combinando casini eh quanto ce vo ce vo eh non è giusto cioè io voi cioè scusatemi dove mi arrampico mi è andata la voce madonna dove mi arrampico se non mi lasciate gli alberi maledetti il mio più preferito arrampicarmi sugli alberi sulle cose mi rovinate pure quello mi rovinate la vita stronzi bravo picciotto mi piace che ti sei incazzato per questa causa onesta e importante la famiglia va rispettata e la natura pura capito se non rispetti la natura non sei nessuno capito personalmente no fa per questo mi sa che non puoi dirlo e su questi programmi mi sa che non si può dire minacce di morte non mi interessa capito tutti se non rispettate la natura capito maledetti eh ma non dovevo commentare io mi sa che c'è ragione però mi viene la rabbia quando sento queste cose mannaggia vai vai commenta queste altre due immagini incredibili eh qui è molto triste perché non solo finché dici vabbè si sboscano per usare la legna vabbè serve la legna vabbè potrebbero ripiantare almeno però insomma vabbè lo fanno per un motivo ma quando bruci in questo modo ma che cosa ci risolvi brucia inquidi tutto inquidi l'aria la terra il mare inquidi il mondo inquidi ma guarda tu e di qua invece pure stesso discorso di prima che noia che noia che noia e dai invece qui è ancora peggio è ancora peggio qui perché qui fanno le cose illegali non solo degli sboschi bruci fai ma pure illegalmente ma guarda tu terribile 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 esatto dunque abbiamo visto la pagina di Guglielmo guardate una ridola mia l'ho già detto prima in realtà scusate non sono abitavate allora provate tutto se volete vivere una vita dignitosa e il rispetto della famiglia e della legge dovete rispettare la natura capito e dovete rispettare la natura e perché chi non rispetta la natura non rispetta lo stesso giusto giusto lo dico io se lo dico io è giusto e basta poi se dovete fare queste cose chiamate prima a me che vi do una mano esatto vi do proprio una mano capito avete capito quindi non fate più queste cose oppure chiamatemi prima di farle così arrivo subito e vi sparo dritti dei coglioni ha capito signor fabbio io vabbè complimenti esatto esatto non ti preoccupare se arrivava qualcuno a dichiarare che sto dicendo cose cattive non ti preoccupare ottimo metodo per risolvere i problemi complimenti signor fabbio esatto esatto ovunque non fate queste cose non bruciate non inquinate e se dovete tagliare un albero che perché gli alberi vanno tagliato ogni tanto ma ripiantateli bastardi avete capito avete vedi ecco no allora accendete la pari l'hai accesa ecco no ragazzi scusate non ve ne andate restate un attimo qui mi ero dimenticato di dire una cosa importante allora riguardo queste immagini mi ero dimenticato di dire che c'è una cosa leggermente importante che abbiamo evitato di dire però perché mi sono dimenticato no perché non volevo capito quando tu disboschi un'area una pianura dice vabbè danni incredibili vabbè ma ho una altra idea i danni che può provocare il disboscamento di una montagna capito le montagne si sa che ogni tanto hanno il rischio di franare di crollare capito adesso è successo cose che succedono che cos'è che le tiene da non franare ogni due secondi le radici degli alberi capito le radici degli alberi ma voi abbattete agli alberi che succede praticamente che le radici dopo un po' si decompongono e non c'erano più quando non c'erano più il terreno da cos'è tenuto da sto che e allora e allora capito prana subito disboscamente alla prima pioggia quello ti crolla tutto capito ti crolla tutto fango ovunque se ci sono case costruite sotto complimenti complimenti veramente vi rovinate tra voi stessi guardate a falliti virgola non mi interessa capito però a me mi interessa perché ci tengo l'ambiente capito ma comunque a proposito complimenti mi raccomando dite io sono ecologico come costruisco la casa con la legna applausi guarda sto applaudendo con le mie mani guarda sto proprio applaudendo meriterebbe un nobel sì in testa maledetta grande capito e sì la verità comunque niente detto questo vi lascio e ci vediamo nei saluti bene non so come è andato questo episodio è la prima volta che lo faccio quindi è un po caotico non si capisce niente forse mi dispiace spero comunque che l'idea vi possa piacere nel prossimo episodio parleremo di altri argomenti sapete che fate scrivetecelo voi se avete qualche argomento che volete scrivetecelo nei commenti se scrivete io potrò fare un video sull'argomento deciso da voi lo so che tanto non lo farete ma se lo fate bravi coglioni vi do insomma patto patto sulla testa mamma mia fabber un grande uomo comunque anche io ospite guglielmo vi saluto e spero di insomma poter esserci anche in un altro episodio anche se nel prossimo probabilmente non ci sarò io ma comunque spero di esserci in un altro episodio esatto tranquillo che sicuramente ti farò venire spesso va bene picciotti grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao 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 ciao